Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa stupitosa puntata di L'Oletta5 Channel Mi vedete in costume, in uno sfondo della piscina, perché finalmente sarò un vlog ASMR super rilassante in cui ci sono io che nuoto in piscina, sono sola Soletta XD e per questo mi rilasserò un pochino ma il relax è durato poco perché è arrivato Kele a rompere le balle no, bravo, vattene, ottimo, ho appena rilavato nuovamente la mia macchinina e nulla, ho pulito la piscina con questa paletta qui che c'è e ancora c'è qualche cosino qua e là adesso vi farò vedere come pulisco ok 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 ecco ecco oppure ecco ok ecco ecco ok ecco ok così mi vedete meglio non bella produttori di ph bella galla sono figliettini e sono bucchi perché finalmente ho la riuscita tac vieni, non è il salore Dylan non lo vado, non lo vado è tutto siena però vabbè ci affondiamo tutte le cose vieni evi pia lala pia lala un video massaggio questa si teme in vita Ciao ciao